I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Salerno hanno apposti sigilli di sequestro a lavatrice e locale per l'esercizio dell'attività di lavanderia in due note strutture ricettive ubicate nel comune di Praiano. Nell'ambito dei controlli svolti, i militari hanno ispezionato le due strutture ricettive, accertando che i responsabili eseguivano le attività di lavanderia senza autorizzazione allo scarico, sversando le acque refla industriali prodotte direttamente in fognatura comunale. All'eserio degli accertamenti di diritto è scatturita la denuncia dei responsabili su richiesta, con Corte della Procura della Repubblica e il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, ha emesso due decreti di sequestro preventivo, distinti per le due strutture alberghiere, per interrompere le illecite attività.